salve popofiere e popofiere bentornati in questo nuovo video in questo video siamo su valentino su the game con la prima gara di campionato moto 2 siamo all'osail e niente le prove libere le qualifiche sono andate in merda quindi parto quindicesimo adesso aspettiamo il caricamento poi carico l'assetto scendiamo in pista e vediamo un po come va la gara sperando che la vada a miglio delle qualifiche caricamento in questo gioco molto lungo buonasera anche te guido mi dà allora messa a punto messa a punto manuale dati cerchiamo l'osail ad eccezione però delle bombe che mettiamo media ad ok scendi in pista e vediamo un po come la gara prima dentro gas a martello via 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 come potete vedere ho scelto la moto di long la stessa scuderia di long ok ero deciso se scegliere la scuderia di rings zarko o long che sono i video che sono i tre piloti che sono sempre qui davanti cioè il totale di scuderia di long ok ok corretto quindi questi scuderia di questa moto ecco 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 No ... ... ... ... ... Secondo giro. Rinse, rinse, togli un piede dalle pomme. Già il cuore. Non farli. Incazzare. Incazzamartello. Mi trova, i poli. E poi. I poli. I poli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non l'avete ancora capito? 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 Non l'avete ancora capito?